Allora, che te ne pare del mio business plan? Ho una buona vision? Sono il dottor Sperti. Da anni ci occupiamo di italiani che dimenticano l'italiano, ma noi di Parla Come Mangi abbiamo la soluzione. Tramite un percorso graduale accompagniamo il paziente verso il recupero della sua madre di vivo. Vera! Bravo! Con l'aiuto di esperti gastronomi lo accompagniamo dal dialetto d'origine alla lingua nazionale. Posso avere una cozza? Thank you! Se anche tu hai un amico che ha scordato la sua lingua, ricordati, sei italiano. Parla Come Mangi. Contenuti zero! Varietà! Arrivederci! Barra Italia!